Musica Tragedia migranti, giovedì 9 marzo, il Consiglio dei Ministri a Cutro. Sant'Anna Hospital, la Corte dei Conti, fa sequestrare crediti ASP per 17,5 milioni di euro. Sei bellissima, l'Ammi Catanzaro al fianco delle donne colpite da tumore al seno. Sarà girato a Serra San Bruno il cortometraggio Fuligine. Ben ritrovati con una nuova edizione delle informazioni di Calabria TV. Sale il numero delle vittime del naufragio dei migranti a steccato di Cutro, domenica 26 febbraio. Intanto, per alcune salme, è stato disposto il trasferimento nei paesi d'origine. Giovedì 9 marzo, il Consiglio dei Ministri è stato convocato a Cutro. Il luogo scelto è la sala consigliare del comune calabrese. Prime sepolture per le vittime del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di steccato di Cutro. Nel tardo pomeriggio, la prima bara, quella di un ragazzo afgano di 24 anni, Nizami Hamid, ha lasciato la camera ardente allestita al palamilone. L'inumazione, secondo il rituare musulmano, su richiesta dei parenti, avverrà oggi nel cimitero di Crotone. Per quanto riguarda le altre salme, sono finora una quarantina le richieste di trasferimento. Le istanze raccolte attraverso gli operatori del terzo settore e dei funzionari del comune di Crotone e Cutro sono state presentate alla prefettura di Crotone. Gran parte dei trasferimenti richiesti è per l'Afghanistan, mentre una minima percentuale è verso la Germania, dove vivono parenti delle vittime. Il Ministero dell'Interno ha dato disponibilità a coprire i costi per il trasferimento all'estero, ma soprattutto per le vittime afghane, che sono la maggior parte, si attende anche l'intervento della Farnesina. La prefettura di Crotone, al termine di una riunione quotidiana nel centro di coordinamento soccorsi, ha anche reso noto che sono state identificate 64 vittime su 70 e le nazionalità dei deceduti. 57 sono afghani, 3 pakistani, un tunisino, un iraniano, un siriano ed un palestinese. Tra i deceduti ci sono 16 minori, che sono stati tutti identificati grazie al lavoro della Polizia Scientifica di Crotone. I superstiti risultano in totale 79, di cui, come ha reso noto l'azienda sanitaria provinciale di Crotone, 8 sono ancora ricoverati, ma le condizioni non ne presentano preoccupazioni. Tra loro ci sono 3 bambini ricoverati presso il reparto di pediatria. Le ricerche coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, secondo quanto riferito al termine della riunione, proseguiranno ad oltranza con mezzi aerei, navali, nuclei di sommozzatori, droni e con personale di presidio a terra della Guardia Costiera della Questura e i carabinieri assieme alla Guardia di Finanza. E poi è previsto anche l'intervento dei Vigi del Fuoco e della Protezione Civile Regionale. Intanto è stato fissato dal Governo per giovedì 9 marzo, nel pomeriggio, la riunione del Consiglio dei Ministri a Cutro. È stata annunciata ieri dalla Premier Giorgia Meloni dopo il naufragio del 26. A specificare la sede del Consiglio dei Ministri è stato il Sindaco Ceraso di Cutro, riferendo che si terrà presso la Sala Consigliare del Comune. Intanto la Procura continua ad acquisire gli atti. L'inchiesta, secondo quanto sia preso, sarebbe a buon punto. Ora bisogna mettere assieme tutti i tasselli e capire cosa è realmente accaduto e se ci sono state delle falle. Cosa presumibile, vista la differenza d'orario tra l'intervento della Guardia Finanza e quello successivo della Guardia Costiera. Un audio starebbe per scaggiorare uno dei presunti scafisti. Nelle registrazioni di un messaggio partito proprio dal momento in cui l'uomo si trovava sull'imbarcazione, aveva chiamato il padre dicendo «Puoi svincolare i soldi perché siamo quasi arrivati», cosa che farebbe capire che non si tratti di uno scafista, ma bensì di un passeggero che aveva speso un importante importo per arrivare in Italia. E verranno trasferiti in un hotel sulla costa di Crotone i sopravvissuti al naufragio, avvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Nella struttura sono già ospitati alcuni dei familiari. La decisione è stata presa direttamente dal Ministero degli Interni. Degli 80 superstiti, 54 erano stati accolti nel centro di accoglienza ad Isola Caporizzuto. 12 erano entrati nel sistema SAI a Crotone. 8 sono ancora ricoverati in ospedale. Due minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e tre scafisti si trovano in carcere. I migranti sopravvissuti al naufragio erano stati posti all'interno di due padiglioni, uno per donne e bambini, l'altro per soli uomini e adulti. Ognuno dotato di bagno. Specificano infatti le fonti della Croce Rossa italiana che gestiscono il CARA. Una scelta provvisoria è quella di aver ospitato i sopravvissuti nei padiglioni che è stata motivata dalla necessità di dare loro la possibilità di incontrare i parenti giunti subito dopo aver saputo del naufragio, ma anche per poter svolgere attività del team di supporto multidisciplinare dedicato esclusivamente a loro. Nei giorni successivi i sopravvissuti erano stati poi trasferiti nei moduli abitativi. Non era stato attivato il trasferimento nei centri SAI perché dovevano ancora svolgere i riconoscimenti dei cadaveri. Sempre dalla Croce Rossa italiana sottolineano che a tutti è stata fornita la massima assistenza, dagli indumenti alle scarpe. Un sequestro plurimilionario per i crediti di Villa Sant'Anna S.P.A. nei confronti dell'ASP di Catanzaro. è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Catanzaro e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Sono somme per circa 17,5 milioni di euro. L'intervento è stato disposto dalla Corte dei Conti. Gli ufficiali giudiziari di Catanzaro insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al sequestro conservativo di circa 17,5 milioni di euro disposto dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria su richieste della Procura regionale nei confronti della Casa di Cura Villa Sant'Anna S.P.A. di Catanzaro. Lo scorso 17 gennaio era stata data esecuzione al provvedimento di sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di 20 milioni nei confronti della stessa struttura sanitaria e del suo amministratore protempore e in quella della sede era stata fissata il 14 febbraio 2023 l'udienza di comparizione delle parti per la conferma modifico-revoca della misura cautelare. La Corte dei Conti ha confermato il sequestro conservativo relativamente a tutti i beni immobili delle partecipazioni societarie, nonché anche di quattro rapporti finanziari e ha disposto l'estensione della misura cautelare alla somma di 17,5 milioni, costituente il credito vantato da Villa Sant'Anna S.P.A. nei confronti dell'ASPE di Catanzaro per prestazioni rese in regime di convenzione nell'anno 2020. La vicenda scaturisce dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Catanzaro e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del IV Gruppo di Reggio Calabria che hanno consentito di disvelare doppi pagamenti che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro aveva effettuato nei confronti della Casa di Cura come corrispettivo delle medesime prestazioni con il conseguente danno irradiale ascrivibile al management della Casa di Cura privata che comunque era accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale nonché anche i vertici protempore dell'Azienda Sanitaria. Un omicidio si è consumato nella notte a Reggio Calabria nel quartiere di Santa Caterina. Nella sua abitazione è stato ucciso un uomo di 47 anni di nazionalità polacca. A trovare il corpo sono stati alcuni suoi dipendenti. L'uomo infatti gestiva l'autolavaggio Paradiso. Dopo un primo esame della Salma eseguita dal medico legale sembrerebbe che l'uomo sia stato soffocato da qualcuno che poi si è allontanato senza lasciare traccia. I PM hanno disposto il sequestro della Salma e quindi sarà sottoposta ad autopsia. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 47enne per capire chi abbia potuto incontrare prima di essere ucciso. Il fatto che l'omicidio sia avvenuto all'interno dell'abitazione dove l'uomo viveva da solo fa ipotizzare agli investigatori che l'uomo si è stato ucciso da qualcuno che conosceva bene e a cui ha consentito di entrare in casa. Il 47enne in passato aveva avuto qualche problema legato a piccolo spaccio di droga. C'è un nuovo collaboratore di giustizia nel processo rinascita Scott. Si tratta di Domenico Guastalegname che non è impiutato nel processo ma precedente di polizia. Collabora con la giustizia diversi mesi. Domenico Guastalegname di 29 anni, figlio del collaboratore di giustizia Antonio Guastalegname. I suoi verbali sono stati depositati ieri sera nel processo rinascita Scott dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Antonio De Bernardo. Domenico Guastalegname non è imputato in rinascita ma ha precedenti di polizia. È in particolare nota la rapina alla quale partecipò il 19 dicembre 2014 ad Asti insieme al padre e Giuseppe Antonio Piccolo e altri due del posto Fabio Fernicola e Jacopo Chiesi nel corso della quale venne ucciso un tabaccaio Manuel Bacco. Per questa rapina padre e figlio sono stati condannati in via definitiva a 30 anni di reclusione. Il padre Antonio Guastalegname di 55 anni originario di Vibo Marina imputato con l'accusa di associazione mafiosa è stato sentito nel corso del processo rinascita Scott a luglio del 2022. Ha parlato a lungo dei rapporti con gli avvocati implicati nel processo come Giancarlo Pittelli e Francesco Stilo. Ha raccontato che l'avvocato Pittelli era caro ma riusciva a tingere, ossia pagare, i presidenti. Che aveva amicizie con i presidenti dei tribunali in corte d'appello e in Cassazione. Un altro avvocato che dicevano ti sistema tutti i processi in Calabria è Stilo. Di Stilo si diceva che sapeva delle indagini prima che ti arrestassero. Antonio Guastalegname ha raccontato di non aver voluto nessuna dote di indrangheta nonostante gli affari che aveva messo su con le cosche di Vibo Marina in particolar modo con Giuseppe Antonio Accorinti e Valerio Novarra per conto dei quali gestiva le piazze di spaccio di Asti. Io mi consideravo un cane sciolto e non volevo dipendere da nessuno ha detto. Adesso è il figlio Domenico a parlare e a raccontare l'indrangheta del Vibonese come ha fatto il padre prima di lui. A Reggio Calabria un operaio dell'Itaci si è incatenato davanti all'azienda dopo essere stato licenziato. Graziano Tomarchio lo ha sentito per noi. Ho lavorato nel 2021 e praticamente siccome ho avuto un intervento al cuore una valvola, diciamo, biguspide. Nell'assunzione non ritenevo, diciamo, raccontare questo perché stavo bene, sto bene ancora oggi. Però per loro dice che dovevo dire questo, diciamo, che ho avuto questo intervento, questa cosa qua. A parte questo, c'è la visita, loro me l'hanno fatta dopo 20 giorni. Ma non era questa la cosa. Io non volevo nascondere niente perché se nascondevo loro, poi alla visita, che cosa dovevo nascondere? Si vedeva. E quindi la sera mi hanno telefonato dicendo che non mi hanno rinnovato il contratto tutto qua. Un'azienda privata, non è l'Itaci? No, non è un'azienda privata che lavora per l'Itaci. Sto facendo questa protesta perché io sto bene, voglio lavorare e devo lavorare. Ci faccio capire, lei è stato assunto di questa azienda, dopodiché nasce un problema che le aveva e oggi... No, è stato prima, diciamo, dell'assunzione. Perché vi ripeto, io non ritenevo, diciamo, non pensavo che importasse loro, c'è questa cosa. Cioè non è che ho avuto, diciamo, una cosa gravissima, una valvola biguspide sostituita al cuore. Quindi io stavo bene, però per loro, dice, che dovevo dirla. La famiglia? Sì. La moglie e figli? Sì, sì, una. Oggi si trova senza lavoro? Senza lavoro, senza. La sua protesta ha con cui vuole parlare? No, io sto cercando già, l'altra volta mi ero fatto la stessa cosa, diciamo incatenato, come dire, no? Per non dire come il cane, sono venuti i sindacati dell'Itaci, hanno fatto uscire il capo, diciamo, questa ditta Miri, con la cosa che lui parlava a Napoli, al direttore, se ci fosse qualche speranza o qualcosa. Avevo appuntamento ieri, non si è presentato e non solo. Io ho mandato un messaggio, un video messaggio e mi ha bloccato anche il telefono. Cioè è una cosa pure, almeno vieni e parla, esci fuori, dici sai cosa ho fatto questo, non ho fatto questo. Penso che neanche ha parlato, ha fatto tutto una falsa, diciamo, non è vero niente, perché il direttore, penso, di Napoli non mi conosce. Che cosa se ne frega di me? Che cosa ci interessa? È lui. Si occupa di questa azienda di interno. Fa montaggi, allestimento, tutta questa roba, diciamo, ognuno fa il suo lavoro. Cambiamo argomento, verrà presentato a Vibo Valencia il progetto Pride dei Lions, che mira a prevenire e a ritardare le forme gravi di Alzheimer. Sabato sarà anche possibile effettuare uno screening gratuito sugli over 65. Parte dai Lions di Vibo Valencia un progetto di respiro nazionale che guarda la prevenzione di una delle malattie che incide maggiormente nel tessuto sociale. Il progetto, proposto dal club quest'anno presieduto da Fabio Scarcella, ha il suo punto di riferimento nel socio Domenico Consul, il primario a merito di neurologia dello Iazzolino, è referente del distretto Lions di questo service, ed è stato denominato PRIDE, acronimo che sta per Preveniamo il declino cognitivo. Si tratta di una iniziativa indirizzata agli ultra 65 anni con un disturbo soggettivo di memoria, perché i soggetti che hanno questo tipo di disturbo, sottoponendosi ad un test, un test banale, anche autosomministrabile, possono eventualmente passare alla seconda fase attraverso uno screening gratuito che a Vibo Valencia è stato organizzato per sabato prossimo presso il centro Moscati. Questo screening gratuito sarà preceduto venerdì pomeriggio da un incontro in programma al 501 Hotel di Vibo Valencia, durante il quale si affronteranno i vari aspetti di questa problematica e sarà illustrato il progetto PRIDE. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto rendere ancora più pragmatica, che è indirizzata alla disabilità e nella fattispecie più segnatamente alla malattia di Alzheimer, e con i risvolti anche giuridici secondari, l'amministratore di sostegno, l'assistenza, l'organizzazione sociosanitaria, eccetera. Questo progetto lo possiamo definire un'azione preventiva nella speranza che si possa evitare la malattia? Certamente sì, ed è questo l'obiettivo del progetto. L'obiettivo del progetto è quello di selezionare dei soggetti che selezionano solo attraverso strumenti clinici ben tarati e codificati, ma clinici senza ricorrere necessariamente ad indagini di nessun tipo. E noi, essendo poi fra l'altro un lavoro epidemiologico, un lavoro molto, non dico epidermico, ma è un lavoro che per definizione deve essere rapido, deve essere indirizzato ai grandi numeri, questo ci dà la possibilità di abbattere, ma questi sono dati consolidati in letteratura alcuni del 2023, e solo con l'attività fisica, per esempio, di appartenere del 50% la conversione da MCI, cioè da un disturbo di cognitività lieve a demenza di Alzheimer. E quindi se noi riusciamo in questa operazione, per noi è un motivo di grande soddisfazione, ed è veramente un service, un servizio reale, che non è di tipo tautologico oppure di tipo, come dire, speculativo nel senso nobile, in cui si riportano dati di letteratura o si riferiscono a una serie di dati, anche importanti, ma che non hanno poi una ricaduta sul piano sociale e sul piano anche medico. Allora, avere l'obiettivo di abbattere numericamente l'incidenza di demenza è una cosa importante. Se questo poi si moltiplica per 5, perché il progetto è ambizioso, spera di entrare nei finanziamenti europei e di essere continuato per 5 anni, noi avremo dei dati assai importanti e numericamente anche pesanti. L'associazione di Catanzaro dell'AMMI, associazione mogli medici italiani, ha lanciato a sostegno delle donne colpite da tumore e che a causa di questa terribile malattia hanno visto cambiare la propria immagine e l'iniziativa Sei bellissima. Se ne è discusso presso la Breast Unity e gli specialisti del Pugliesi Ciaccio e del Mater Domini. Ogni volta che si riesce a parlare dell'argomento è un momento importante, perché stiamo percorrendo una strada di crescita dell'organizzazione senologica in Calabria e quindi ogni manifestazione è ben accetta. Silvana Bertucci questa volta ha organizzato questa manifestazione concentrando l'attenzione sul benessere della donna affetta dalla patologia della mammella e noi siamo con lei a cercare di fare capire quello che si è fatto e quello che ancora si può fare. È un momento storico importante, questo, quello della fusione delle due aziende, importanti aziende cittadine, che potrebbero essere da faro per tutta la regione, se si riuscisse a portare avanti in maniera attiva e positiva questo progetto. Benissimo, da tutte e due le parti, diciamo, c'è grande fermento culturale, professionale, c'è il piano di rientro che ormai è data 15 anni, che quindi riduce sempre di più il numero di professionisti che possono lavorare. Bisogna capire che più aumenta la richiesta di prestazione, più è necessario incrementare il numero di professionisti disposti a dare la loro opera. Solo così facendo si riducono i tempi di attesa e soprattutto si riduce la migrazione sanitaria, che è il nostro principale nemico insieme al cancro. Allora, noi siamo passati, come azienda ospedaliera, siamo passati dai 126 nuovi casi del 2019, siamo passati da 270 circa. Anche Germaneto fa il suo lavoro e quindi nell'insieme l'azienda unica potrebbe diventare veramente un faro per l'Italia meridionale, perché diciamo che sono delle breast unit che se trovano sinergia e unità di intenti possono dare una risposta globale a tutta la collettività. In più c'è una breast unit a Cosenza e una in itinere, speriamo che nasca, a Reggio Calabria. Quindi non ci dovrebbe essere più necessità di questa migrazione sanitaria. Quindi siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi soprattutto, speriamo molto in questa fusione di intenti, in cui non ci deve essere prevaricazione da parte di uno sull'altro, ma ci deve essere solo voglia di collaborare, sana rivalità, io direi sinergia nel tentare di curare bene gli ammalati. Sono Silvana Iello Bertucci, presidente dell'Associazione Moglie Medici Italiani Sezione di Catanzaro. Tu sei bellissima, è l'iniziativa che l'AMMI lancia a supporto delle donne colpite da tumore e che hanno visto cambiare la propria immagine a causa di questa terribile malattia. I saloni di bellezza della provincia di Catanzaro, coinvolti grazie alla Confartigianato Impresse Catanzaro, offriranno la loro consulenza gratuita per tutto l'anno 2023. Siamo giunti all'ultima notizia. A Sera San Bruno, nel Vibonese, verrà girato il cortometraggio Fuligine, la storia conflittuale tra un padre e suo figlio all'interno di una carbonaia, il cui regista e gli attori sono tutti calabresi. La Calabria si ritrova un naturale set cinematografico all'interno del quale girare film, documentari o cortometraggi che ne esaltano le peculiarità. Questa volta è stata a Sera San Bruno a ospitare le telecamere del cortometraggio Fuligine di Reboto Productions, scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Domenico Pisani e realizzato grazie a sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria. Dobbiamo promuovere i nostri territori e dobbiamo promuovere anche i territori dell'entroterra, delle aree interne come Serra San Bruno che è un borgo meraviglioso dove c'è la Certosa famosa in tutto il mondo ma c'è tanto altro perché andando in giro per questo centro storico si vede la mano sapiente e gli scalpellini, si vedono tante chiese e un posto meraviglioso che verrà valorizzato grazie a questo cortometraggio non soltanto per la storia che racconta ma per lo sfondo che ha. La mission della Calabria Fulco Mission è proprio questa, cioè promuovere i nostri territori, fare in modo non soltanto che i calabresi della Calabria ne abbiano consapevolezza ma soprattutto che chi sta fuori da questo territorio possa avere l'occasione di vederli, di ammirarli e quindi di poterli successivamente venire a visitare. Questo è un progetto importante, Serra San Bruno, un set di bellezze storiche, di importanza archeologica fondamentale sotto di bellezze paesaggistiche. Il bravissimo regista Domenico Pisani è tornato nella sua terra e quindi diventa profeta in patria e felicemente per la Fulco Mission dove confessionerà questo cortometraggio di soli 15 minuti dove racconterà una storia importante, un dramma familiare, un dramma ancestrale di desadattamento, un ritratto di famiglia. Domenico Pisani, il regista, è un serrese docche che conosce profondamente questi luoghi con le sue tradizioni e contraddizioni e ha scelto di tornare nella sua terra con un cast importante e soprattutto calabrese. Un cast totalmente calabrese, abbiamo scelto anche di girare qui a Serra il corto nel suo totale, nel totale delle riprese e ci sarà anche la postproduzione che faremo qui sul territorio calabrese. Abbiamo anche coinvolto l'istituto di istruzione superiore Luigi Enaudi al quale io ho partecipato da adolescente, sono stato studente lì e ho coinvolto dei ragazzi che saranno una decina presenti sul set a seguire le riprese come telecinanti, altri invece seguiranno un percorso formativo subito dopo le riprese. Quindi Serra San Bruno diventa un set cinematografico naturale. Un set allestito da Serresi se vogliamo perché Domenico Pisani ritorna grazie anche a un contributo della Calabria Film Commission per raccontare il territorio declinandolo con un carattere identitario perché Fuligine è ambientato con una cornice di carbone, che è il nostro carbone, quello di Serra San Bruno, quello che da secoli viene prodotto e che ha una rotta commerciale ancora solida in Italia. Quindi è un contesto che sicuramente racconta la nostra identità. C'è anche Domenico Maiolo che è un attore che ha già fatto qualcosa a livello nazionale lavorando anche con registi come Pieraccioni. Per noi è un orgoglio ed è molto bello come amministrazione supportare con il nostro patrocinio perché significa far vedere che c'è un dinamismo culturale molto importante anche nell'area interna e Serra San Bruno si candida a rappresentare quel tipo di Calabria forse meno raccontata per certi aspetti ma altrettanto valida nel far parlare di Calabria stessa. È tutto per questa edizione, ora spazio alle notizie dell'Italia e dal mondo. Grazie per essere stati con noi. Le qualità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando. Dunque sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha rispinto oggi in un'informativa urgente alla Camera dei Deputati le accuse rivolte all'esecutivo dopo il naufragio di Cutro. Nel corso del suo intervento Piantedosi più volte interrotto dalle rimostranze delle opposizioni ha detto che da Frontex non c'erano segnalazioni di pericolo e che la prima richiesta di soccorso è arrivata soltanto alle quattro. Dopo l'informativa del ministro dell'interno nell'aula di Montecitorio si è acceso il dibattito. Giuseppe Provenzano del PD ha accusato l'esecutivo senza mezzi termini. Il governo deve essere indagato per strage colposa. Toni Duri anche da parte di Vittoria Baldino dei 5 Stelle che ha messo nel mirino Matteo Salvini chiedendogli di non scappare dal Parlamento come un coniglio e le dimissioni. Intanto il bilancio delle vittime del naufragio sale a 72. Questa mattina sono stati infatti recuperati altri due corpi senza vita. Sono di una giovane donna e di una bambina di tre anni. Un tragico incidente aereo nella tarda mattinata di oggi all'altezza di Guidoni a Montecelio alle porte di Roma è costato la vita a due piloti dell'aeronautica militare. Due aerei ultraleggeri appartenenti al sessantesimo stormo nel corso di un'esercitazione sono entrati in collisione. Uno dei due ha perso un'ala e sono precipitati. Dopo lo scontro un veivolo è finito in un prato, l'altro su una strada. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Alla vigilia dell'8 marzo, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua foto al posto di uno specchio collocato in attesa della prima donna presidente del Consiglio, ha voluto dare un suo personale messaggio di incoraggiamento a tutte le donne, spiegando che il fatto di essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare. Un'espressione già usata da Elie Schlein in occasione della sua elezione a segretaria del PD. Il tetto di cristallo si rompe dimostrando che si può fare molto bene, ha detto la Premier, che poi ha aggiunto. Sono soprattutto le donne a dover credere di più nelle loro capacità a non accettare ruoli che vengono concessi loro, invece di pretendere di guadagnarli sul campo e a rifiutare la logica di dover competere tra loro, come se partecipassero ad un altro campionato. In Ucraina la battaglia per la città di Bakhmut ha raggiunto il massimo livello di tensione. Lo Stato Maggiore dell'Esercito fa sapere che le forze armate di Kiev hanno eliminato ieri oltre mille soldati russi. Zelensky rivolge un messaggio all'esercito. «Ritrovate tutte le forze per difendere la città e annuncia resistenza a oltranza senza alcun ritiro, ordinando rinforzi». Dal canto suo, il capo dei mercenari russi del gruppo Wagner Prizokin su Telegram scrive «Smettiamo di dire che abbiamo preso Bakhmut». Intanto mentre gli Stati Uniti ribadiscono che la fornitura dei jet F-16 all'Ucraina non è sul tavolo, il ministro degli esteri cinese, Qin Gang, sottolinea l'importanza di riprendere i colloqui di pace il prima possibile perché la crisi ucraina è giunta ad un punto critico. Dagli atti dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid continuano ad emergere nuovi elementi, in particolare sulle divergenze circa l'istituzione della zona russa nella Val Seriana e sulla mancata attuazione del piano pandemico. Quando scattò l'allerta Covid, il piano era datato e costruito su un virus influenzale. È un passaggio del verbale dell'allora ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'audizione in procura a Bergamo nel gennaio del 2021. Ciò che ci mancava era il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto, ha spiegato a IPM Speranza, chiarendo che l'attuazione del piano è compito del direttore generale della Prevenzione del Ministero. Quanto al ritardo dell'istituzione della zona rossa, Speranza dice che se misure specifiche per i comuni di Alzano e Nembro, tipo zona rossa di Codogno, fossero state adottate una settimana prima rispetto all'8 marzo del 2020, mi sento di dire ragionevolmente che avremmo avuto la metà dei contagi.